presenti ieri 21 febbraio 2018 alle iene loro la famosa band bolognese lo stato sociale con la sua it che non può assolutamente essere non ascoltata che per l'appunto una vita in vacanza un brano musicale che sa davvero trasmettere emozioni e sa infondere una carica pazzesca in chi lo sa ascoltare ed è proprio questa la caratteristica di questa band di questi ragazzi che sanno davvero essere sbarazzini quanto basta simpatici divertenti allegri e piacevoli e nel modo di esporsi e nel modo di cantare e nel modo di rapportarsi con gli altri sono entrati in studio però all'inizio non c'è stato l'audio nel senso che non c'era proprio l'audio il sonoro così è stata mandata alla pubblicità un servizio su un prete canterino e poi ecco che prete canterino entra nello studio e lui e loro quinto stato sociale cantano una vita in vacanza un brano che ripeto mi ha letteralmente lasciato soddisfatto un brano rivelazione di questo festival della canzone italiana dell'anno 2018 che è arrivato secondo ma sono convinto che continuerà a raggiungere il successo che sta ottenendo e crescerà sempre di più complimenti ai ragazzi lo stato sociale questa band bolognese che continua a mettere i successi lungo e largo in italia e non solo il problema audio comunque che c'era stato vi ricordo che poi è stato risolto e nessuno si è potuto lamentare giusto su twitter giusto su altri social network c'è stato qualcuno che ha diciamo così storto il naso che ha fatto sapere ma che caspita è successo poi però si è risolto il chiamiamolo guasto tecnico grazie il video termina qua complimenti allo stato sociale un saluto il prossimo video da naruto italiano